Ascoli Piceno, l'arte di meravigliarti, un progetto nato durante il lockdown da Ascolani, appassionati e amanti di Ascoli, che vogliono connettere Ascoli nel mondo e il mondo ad Ascoli, soprattutto adesso, in questo momento dove è richiesto un distanziamento nel nostro territorio, il distanziamento è naturale, il ritmo è lento e quindi abbiamo voluto promuovere la città attraverso il coinvolgimento di Ascolani e Nonna che possano raccontare il proprio legame e la propria esperienza all'interno della nostra meravigliosa città. L'iniziativa è venuta su una proposta di Tipico Ascoli, che è un portale di promozione del territorio e delle eccellenze del territorio. Quindi il nostro appello a tutti i personaggi ascolani, ma anche chi ha avuto un contatto con la nostra città, di poter partecipare a questi video promozionali che possano invitare i turisti nazionali e internazionali per venire nella nostra fantastica città e quindi il nostro invito è di venire ad Ascoli, città della cultura. Grazie per la visione!